Una luna che in serata diventa piuttosto pesante, voi che già siete parecchio stressati da questa primavera che non è mai il vostro momento migliore dell'anno, anzi è sempre un momento problematico. La primavera lo è stato ancora di più quest'anno perché avete anche questo giovane in una posizione piuttosto difficile, in una posizione che vi fa sentire la pesantezza delle vostre responsabilità del lavoro, soprattutto delle cose che non vi piacciono. Amici della bilancia, tutti noi nella nostra vita siamo costretti anche a sopportare delle cose che magari preferiremmo evitare, ma che il nostro malgrado dobbiamo accettare, alle quali dobbiamo in qualche modo anche adattarci. Però in questo anno, devo dire che un giovane in questa posizione, voi sentite forte il peso di tutto questo, lo sentirete ancora di più nel corso della serata, ma già nel corso della giornata, questa luna in pesci, vi fa essere molto, come dire, ribelli nei confronti di tutto, delle imposizioni, delle regole, dei doveri. Andiamo al segno dello scopo.